Vi ringraziamo per la vostra presenza, mi pare numerosa e anche attenta al nostro lavoro. Noi abbiamo voluto raccogliere in questi mesi e in questi ultimi anni, un anno e mezzo circa, che è durato questo lavoro, abbiamo voluto raccogliere anche tante sensibilità e tanti strumenti che noi stessi, molti operatori, molti utenti ci hanno trasferito in relazione alla grande questione del servizio sanitario regionale in Abruzzo. Una questione che, come vi è noto, è un punto cruciale nella storia passata e futura, secondo noi, di questa regione, nel suo modo di modernizzare la prospettiva futura di relazionarsi con altre regioni, in parte che stanno conducendo, in parte come noi, dei piani di rientro, dei piani di risanamento e stanno trovando l'assetto verso l'Italia migliore, verso l'Europa e dall'altro lato, appunto, come prospettiva anche di correlato dell'economia di questa regione, ragione del fatto che più pesa e più pesa con qualità scadenti il servizio sanitario regionale, meno la regione può svolgere una funzione motrice rispetto agli assetti sociali ed economici. E in questo quadro, proprio perché abbiamo colto la criticità degli anni scorsi, abbiamo voluto mettere insieme un gruppo di persone che io ringrazio tutte e poi citerò. Ci sarà una relazione anche tecnica più di merito rispetto al lavoro svolto da questo gruppo per, diciamo, diretta relazione a voi, di ulteriori valutazioni che sono state fatte in questo nostro lavoro. C'era già stata la produzione di un documento e un confronto che avevamo tenuto nel convegno che qui raccogliamo negli altri, che vi trasferiamo come patrimonio comune della comunità regionale, ovviamente, e come nostra base di elaborazione dei documenti di programmazione che sono nelle linee generali che qui raccogliamo in appendice, ma che sono uno strumento sul quale bisognerà innestare una prospettiva nuova. Una prospettiva che è riassumibile, credo, nelle dichiarazioni di questa mattina di alcune rappresentanze, di alcune forze sindacali e cioè noi non possiamo rivendicare come punto del risanamento il pareggio contabile sulla spesa sanitaria storica. Noi dobbiamo produrre un servizio sanitario innovativo che abbia gli equilibri a pareggio e che abbia la fortissima e piena integrazione tra prevenzione, medicina del territorio, medicina ospedaliera, segmento pubblico e segmento privato, politiche sanitarie e politiche sociali e tutto questo deve avvenire in un rapporto con le risorse intere della regione che lasci libera una quantità di risorse utili a determinare l'intervento della regione in altri settori che sono i fattori dell'economia e della vita sociale regionale. Questo è il quadro di riferimento che noi nei nostri documenti vi consegniamo e in una elaborazione in appendice curata per il gruppo da Roberto Marzetti, cerchiamo di mostrarvi come l'evoluzione a pareggio del sistema sanitario regionale è un'evoluzione statica dal punto di vista dei servizi resi e cioè dei livelli essenziali di assistenza. Con dati e tabelle che vi trasferiamo, dati ufficiali quindi incontrovertibili, noi vi mostriamo che sì abbiamo cosiddetto sanato il pareggio di bilancio ma non abbiamo assolutamente fatto evolvere i livelli essenziali di assistenza dunque la prospettiva è di un nuovo piano sanitario che guardia l'integrazione anche sociale, la prossima legislatura si aprirà con una criticità grave, la gestione dell'ex articolo 26 che dovrà distinguere la prestazione sanitaria dalla prestazione di carattere sociale per la quota di parte sociale che credo sia di qualche decina di milioni di euro non ha copertura finanziaria dunque vedete che criticità gravi noi le dovremo affrontare a breve. C'è stata da parte del commissario un'ulteriore provoca a scavallare le elezioni regionali ma il 30 di giugno la proroga scade ancora e chi governerà a quella data dovrà immediatamente cercare soluzione a questa grande criticità solo per dirvi appunto quali sono i punti risolti che sono anche di valenza finanziaria grauosa per l'intero sistema regionale dunque questo è stato il lavoro, un lavoro che è continuato nel tempo ed è stato condotto dalle persone che adesso io vi richiamo perché credo che sia stato un punto d'onore in un periodo in cui la politica e l'elaborazione di programmatica è molto regolata dalla funzione informativa del giorno dopo cioè dalla funzione d'immagine e dalla funzione esteriore io credo che sia doveroso ecco dar merito a persone che hanno voluto dar seguito nel tempo a questo lavoro quindi io ho coordinato per il gruppo regionale ringrazio il capogruppo capito da Alessandro per la fiducia che mi ha accordato in questo lavoro e nella costanza di questi mesi ringrazio Francesco Ricci, Gianfranco Isci, Roberto Marzetti, Silvio Basile, Vittorio Di Michele, Alessia Parlatore, Antonio Ciofani e Maria Amato speriamo che questo gruppo possa rafforzarsi di tante competenze e si possa costituire in Abruzzo nel prossimo futuro dopo le elezioni regionali che speriamo profigue nel risultato per il centrosinistra e il partito democratico noi speriamo che si possa davvero costituire un forum regionale per le politiche sociosanitarie che darebbe forza, supporto, trasparenza alla gestione delle politiche sanitarie e sia anche un antidoto ad evitare le criticità che negli anni passati abbiamo dovuto vivere e quindi con questo auspicio io a cui lavori dando la parola al tavo gruppo Camillo D'Alessandro grazie a Giovanni, veramente complimenti, grazie a coloro che ci hanno dato una mano grazie a voi che siete presenti, grazie a quelli con i quali Giovanni in questi mesi, in questi anni ha incontrato saluto chiaramente gli organi di informazione che sono presenti e lo voglio dire in apertura in premessa poi del dettaglio tecnico parlerà a chi ha sicuramente maggiore competenza il primo giorno che noi ci siamo insediati in consiglio regionale sapevamo benissimo che prima o poi questi 60 mesi sarebbero conclusi salvo essere poi diventati 66 per un'operazione ingegneristica elettorale e potevamo scegliere due vodi, due vie per approcciare a questo tempo aspettare che corresse dicendo semplicemente le cose che non andavano e finirla lì oppure utilizzarli tutti, uno ad uno, chiamando e chiedendo a chi sa e alle competenze che sono disponibili generosamente disponibili di darci una mano ieri perché sarebbe arrivato il tempo in cui poi c'è una fase del dire e c'è una fase del fare noi crediamo che tra 15 giorni inizia la fase del fare sulla sanità noi durante il tempo dell'opposizione cheppure potevamo dire qualunque cosa cheppure potevamo avere un approccio di tipo qualunquistico rispetto alle questioni che sono molto più complesse anche di chi giustamente lamenta i limiti del sistema sanitario regionale noi abbiamo deciso di invece entrare nel merito e farlo con un gruppo di lavoro che si facesse carico di un lavoro sovrumano che era quello innanzitutto dello studio e dell'analisi di ciò che si faceva e che non si faceva in regione attraverso questa funzione del commissariamento che ha rappresentato il saccheggio del potere legislativo del Consiglio regionale per 66 mesi il Consiglio regionale è stato saccheggiato della propria funzione principale quella cioè di programmare la sanità in Abruzzo ciò ha dato vita degli atti amministrativi di natura amministrativa che sono stati puntualmente impugnati davanti al Tribunale amministrativo e ciò ha provocato otto consecutive pronunce da parte del Tribunale amministrativo che negavano il diritto del commissario di produrre atti che avessero valenza di legge cioè di natura programmatoria perché non gli poteva competere al commissario Chiodi né potrà competere a chi verrà dopo di Chiodi in termini di programmazione insomma quello che abbiamo cercato di evidenziare è che nessuna prepotenza romana poteva dire all'Abruzzo come doveva essere la sanità abruzzese cioè Roma può stabilire e deve stabilire sulla base del vincolo del commissario Vento sia i termini di rientro sia chi può obbligare ad entrare nei paletti dei numeri ma poi come questi numeri si distribuiscono quale sanità sta sui territori come si distribuisce l'offerta sanitaria sui territori evitando quello che sempre da sempre per esempio l'Unorevole Amato ha denunciato nell'Abruzzo del Nord e nell'Abruzzo del Sud anche in termini sanitari questo lo decide l'Abruzzo lo decide il potere regionale questo non è avvenuto in Consiglio regionale questo non è avvenuto in questi 66 mesi e il fatto che noi prima che assumessimo la responsabilità di governo nella quale siamo convinti che la riusciremo ad assumere tra 15 giorni prima dovremmo dire che cosa faremo dopo penso che questo sia un atto di assoluta serietà che ci vincola e ci impegna e soprattutto che ci fa misurare se le cose che poi abbiamo detto le abbiamo oggettivamente fatte allora questo lavoro che nasce dal contributo vostro anche da un precedente convegno e altri contributi che ci sono stati ci consente e ci vincola come gruppo regionale del Partito Democratico ed il nuovo Presidente della Regione ad avere un chiaro indirizzo descritto oggi che attuerremo domani questo è il senso di questa scrittura noi potevamo non scriverlo potevamo non stamparlo invece abbiamo ritenuto che si dovesse passare dalla parte dell'analisi alle proposte e poi anche a un dato non dico scientifico però certo che ci impegnasse e che ci potesse consentire a noi di dire agli operatori sanitari questo saremo e questo faremo tra 15 giorni per questo io ritengo che il lavoro che fanno avanti da Giovanni Anico e dal gruppo regionale ma lui non l'ha seguito per conto nostro in particolare sia un lavoro che premia e che in qualche maniera ci consente di dire che anche un altro modo di concepire la politica e anche il tempo dell'opposizione è possibile non entro nel merito tecnico ma voglio dire una sola questione che anche in questi giorni sta emergendo in tutta la sua evidenza si continua a raccontare di una sanità consentitelo risanata limitando questo risanamento al capitolo diciamo della copertura dei costi ettericali ma non si vuole affrontare ci si rifiuta di affrontare anche in questa campagna elettorale il tema di entrare nel merito di come sia oggettivamente non percepita soltanto la sanità da parte degli utenti perché poi il giudizio finale non la danno neanche gli operatori il giudizio finale la danno gli utenti su quale è il percepito della sanità non in termini di sensazione ma in senso proprio di erogazione del diritto all'assistenza sanitaria il diritto alla salute in atto questo è il punto partiamo dagli utenti e se partiamo dagli utenti passo dopo passiamo attraverso i medici coloro che lavorano dentro le strutture pubbliche che più di noi sanno in che modo sia complicato garantire quelle prestazioni dalle quali sono chiamati a garantire almeno sulla carta ma che poi hanno difficoltà a garantirla nel mondo reale poi della sanità che noi abbiamo oggi e se noi facciamo questo ragionamento la percezione degli utenti ciò che viene effettivamente erogato come erogato i tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie dopo 66 mesi di compissariamento il giudizio non può essere che impietoso questa è una regione che non ha affatto un passo in avanti rispetto all'obiettivo di garantire le prestazioni sanitarie a livello essenziale di assistenza i tempi ragionieri della prestazione sanitaria siamo arrivati ad un salto tra mobilità passiva e mobilità attiva di circa meno 60 milioni di euro per cui che indicano diciamo una tendenza purtroppo nel merito queste prestazioni non sono solo prestazioni di alta professionalità ma sono prestazioni diciamo quasi di carattere ordinario e quindi bisognerebbe interrogarsi anche per questo e questa forse la risposta sta dentro il nuovo modello di organizzazione della sanità in abuso noi cerchiamo oggi di dargli una risposta lo facciamo attraverso di voi con un impegno che chiaramente non compete a me ma come classe dirigente del PD probabilmente sì competerà di più al candidato presidente a D'Alfonso ma l'impegno la parte nostra come classe dirigente del PD lo possiamo assumere non è che ci rivedremo tra 60 mesi questo sarà un lavoro costante perché se assumeremo come riteniamo l'onere del governo ogni giorno ci dovremo confrontare sulle questioni che volgono e che siccome sono complesse hanno bisogno di un governo sanitario vero e il governo sanitario non può essere fatto se non da coloro che la sanità la vivono la praticano la soffrono tutti i giorni questo è il impegno che il PD prende politicamente oggi non ci rivedremo tra 60 mesi ma ci rivedremo per esempio per scrivere immediatamente il nuovo piano sanitario regionale non è più concepibile che si vada avanti in questi modi anche in tempi di commissariamento che non impediscono il piano sanitario regionale anzi è un decreto del governo lo ricordo anche alla stampa quando fu salvato quando furono salvati le otto pronunce da parte del tribunale amministrativi sugli atti amministrativi focciati del presidente Chioni il governo salvò quegli atti amministrativi dicendo e imponendo alla regione di fare immediatamente il piano sanitario regionale in assenza di programmazione ogni atto compissariale sarebbe stata una sorta di violenza o prepotenza il piano sanitario regionale imposto con legge nazionale non è stato mai fatto se non confezionati in qualche stanza romana invece il primo impegno che noi dobbiamo assumere in un tempo ragionevole che riguarda metà del primo anno della prossima legislatura cioè entro sei mesi mettere in campo il nuovo piano sanitario regionale dove là si dice che cosa sarà collegge la sanità in Abruzzo grazie ci raggiungeranno Luciano D'Alfonso nel corso di questo nostro incontro e l'onorevole Legnini che è partito da Roma per raggiungerci nel frattempo dopo i saluti di Silvio Paolucci per il partito democratico regionale ci saranno poi le relazioni e per il gruppo di lavoro prenderà la parola Roberto Marzetti grazie grazie Giovanni grazie a tutti voi che avete contribuito parlo ovviamente mi rivolgo al gruppo di lavoro a consegnare una proposta che faccio appello ovviamente ai mezzi di informazione a che venga proposta condovizia riportata condovizia di particolari perché in questa campagna elettorale diciamo c'è chi si carica il compito di affrontare alcune questioni di proporre e poi c'è chi sale sui tetti e ottiene o alimenta un consenso solo sul dissenso c'è una bella differenza caricarsi la questione il problema il tema in una comunità regionale ed è ben altra cosa invece alimentare il dissenso dipingendo e raccontando questa regione come la comunità come una comunità nella quale si beve acqua verinata piuttosto come una comunità che insomma rappresenterebbe sarebbe la seconda terra dei fuori fa male fa male a nostra economia fa male al nostro turismo fa male al nostro prodotto fa male alla nostra regione rappresentarla così e anche sulla sanità anche sulla sanità siamo giunti agli diciamo agli sgoccioli di questa campagna elettorale e ci arriviamo esattamente parlo del centro-destra in questo caso così come l'avevamo lasciato cinque anni e mezzo fa allora si proponevano cinque nuovi ospedali oggi si torna in campagna elettorale proponendo un altro nuovo ospedale a chi? Bufale Bufale cinque anni fa Bufale ovviamente anche oggi e viva il Dio quel progetto come è stato richiamato nelle relazioni introduttive in particolar modo adesso da Camillo quei progetti vanno perseguiti esclusivamente dopo aver scritto un nuovo piano sanitario regionale i punti all'ordine del giorno sono stati detti tutti adesso passiamo rapidamente solo alle relazioni di chi ci ha lavorato e dei contributi di coloro che hanno voluto darci questo contributo a chi diventi anche un pezzo del programma legislativo futuro io li voglio solo di ordinare abbiamo bisogno di archiviare l'esperienza commissaria di definire nei primissimi mesi verificando quali sono e qual è lo stato dei conti effettivo sulla sanità l'ultimo verbale di monitoraggio che non è ancora uscito e quindi chiedo ovviamente a tutti di poterlo far emergere pone diversi dubbi sul punto perché per esempio su un pareggio di bilancio non vengono considerati i cosiddetti contenziosi che è l'altro tema che in questa quando noi ovviamente spero con un mandato di governo potremo farcene carico è un altro di quei temi che andrebbero archiviati due è stato ricordato la mobilità passiva e penso che nelle relazioni che seguiranno verrà corposamente dimostrato il danno che è stato portato al servizio sanitario regionale in questa regione tre diciamolo com'è il groviglio della questione sanitaria dell'area urbana tra pescarecchieti nel rapporto tra pescarecchieti e nel rapporto con l'università ecco attorno a questo e al rapporto pubblico privato che sia ben diverso da quello che c'è stato in questi anni non solo gli ultimi 5 e mezzo a mio avviso è possibile trovare qualche risposta sia sul fronte della mobilità sulle prestazioni sulla territorizzazione di alcune prestazioni sullo svuotamento nei territori di alcune situazioni ecco lì vanno trovate le vere risposte e lì con coraggio noi lo diciamo da subito abbiamo intenzione di rendere questo percorso davvero partecipato e partecipativo la sfida a tutti però in questi ultimi 10 giorni di campagna elettorale è confrontarci sul merito di cui l'appello iniziale che facevo ai tanti amici anche della stampa e non solo su quelle denunce spettacolari che davvero fanno male a questa comunità grazie per il vostro contributo io darei la parola per un saluto alla consigliera Marinella Scopo ci devo poi lasciare e se me è Maria Amato donorevole Maria Amato per una prima relazione introduttiva grazie grazie Giovanni io cercherò di evitare il mio saluto il mio piccolo intervento in 7 minuti intanto voglio ringraziare Giovanni per aver portato avanti il gruppo il gruppo sanità in questi 5 anni volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al gruppo e vi voglio ringraziare oggi con molti di voi ho avuto diversi confronti ho avuto un modo di confrontarvi sulla situazione degli ospedali siamo entrati con il gruppo negli ospedali nei reparti per cercare in qualche modo di monitorare l'andamento della sanità al di là dei vuoti i proclami del nostro presidente del nostro del presidente della nostra regione Chiodi ho registrato senz'altro la vostra preoccupazione la vostra difficoltà nell'operare in un campo così delicato come la tutela della salute pubblica e naturalmente la sanità avete assistito a tagli di ogni tipo senza guardare senza vedere nessun tipo di riorganizzazione le vostre giuste preoccupazioni sono state anche le mie anche quelle del gruppo PD che più volte questo l'ho detto anche Camillo prima ha cercato la condivisione dei decreti ma mai i decreti sono stati portati né in commissione né in assise perché tutto è stato deciso direttamente dal 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 commissario quindi dal presidente Chiodi in nome del commissario è avuto in questi giorni come l'onorevole Amato dirà e come il sottosegretario Legnini potranno confermare si è alimentato molto il dibattito sul decreto appena votato alla presidenza del consiglio sui tagli sì o i tagli no rispetto al trasferimento dei finanziamenti alle regioni guardate prima di creare inutili allarmismi che ci possono stare in questo momento io credo che sia importante fare chiarezza e mettere in ordine le carte come si dice l'assenza di tagli alla sanità pubblica nella manovra di fresca approvazione di per sé non portano né la risoluzione del problema della salute né quelli della spesa su entrambe le questioni un invece modo per poter risparmiare e fare salute e far sì che ci sia la salute sui nostri territori è naturalmente un buon sistema di prevenzione che deve essere il primo punto del nostro ordine del giorno dal 26 maggio un buon sistema parlano tutti del buon sistema di prevenzione ma in effetti purtroppo solo il 5% della spesa programmata è quella dedicata alla prevenzione per cui non si sfrutta né molto di meno del 5% quindi insomma stiamo veramente al basso quindi non si sfruttano in questo modo né le potenzialità delle strutture né le professionalità che certi ci sono dedicate alla prevenzione per esempio l'adesione agli screening continua a restare bassa soprattutto in Abruzzo visto che per esempio per risparmiare addirittura chiodi li ha riattivati solamente nell'ultimo periodo della campagna elettorale quindi tutti parlano di prevenzione ma in effetti non si fa e non si fa soprattutto in Abruzzo un rilancio quindi nell'attività di prevenzione può essere considerata strategica facendo sì che ci sia un ruolo fondamentale nella riduzione dei fattori di rischio di salute e quindi alla lunga anche delle spese della cura sanitaria delle cure sanitarie salutiamo il nostro candidato alla presidenza allora viene da sé che investire perché stiamo parlando di investimento sulla prevenzione risparmia comunque tutela la salute pubblica e naturalmente crea un risparmio perché le economie risparmiate per le cure se io prevengo non mi ammalo e se non mi ammalo spendo di meno perché quando io ho una patologia accertata tardi le cure diventano costosissime quindi le economie risparmiate con la prevenzione possono essere messe a valorizzazione delle eccellenze che in abruzzo ci sono e che e quindi potrebbero a loro volta a loro volta essere voci attive nel bilancio della sanità faccio prevenzione risparmio nelle cure tardive investo nelle eccellenze e creo mobilità attiva quello il contrario di quello che sta succedendo cittadini sani cittadini sani e mobilità attiva che è assolutamente il contrario di quello che sta succedendo che è successo negli ultimi almeno negli ultimi cinque anni naturalmente è importante anche comunicare e valorizzare le nostre eccellenze per il riconoscimento della capacità di cui molti nostri medici sono capaci e chiaramente è necessario che anche voi che in qualche modo siete animati da una missione dobbiate come dire essere messi nella condizione di poter operare in maniera in maniera corretta in maniera giusta naturalmente non anch'io come Camillo non vi non vi racconto quello che è scritto su questo libro perché l'abbiamo scritto nello subianco lo potrete leggere ma altri due punti sono fondamentali oltre a riattivare e a puntare sulla prevenzione l'integrazione socio-sanitaria guardate che è una delle ultime regioni che non ha integrazione socio-sanitaria il sociale non parla con il sanitario non si parlano i dirigenti neanche i dirigenti non si parlano gli assessori è anche il terzo punto quindi prevenzione integrazione socio-sanitaria il terzo punto la rete di emergenza urgenza non dimentichiamoci e questo l'abbiamo visto parlando e guardando i nostri territori che l'Abruzzo viaggia a diverse velocità e questo non è possibile serve un confronto con i territori per strutturare al meglio la riorganizzazione aziendale e tutelare le qualità dei servizi l'Abruzzo è trattato male in materia di sanità in alcuni si riesce ad offrire una sanità a misura al paziente in altre zone purtroppo il tutto è pericolosamente assente allora bisogna risincronizzarsi e far sì che tutti i cittadini abruzzesi a prescindere del territorio in cui abitano siano curati allo stesso modo siano presi in carico allo stesso modo da anni e parlo dell'ultimo punto c'è della rete emergenza-urgenza che oggi dice che sta lavorando a questa rete emergenza-urgenza io non so se voi abbiate avuto conferma ma non mi sembra che ci sia traccia di questo suo lavoro so per certo che ci sono territori sia nel Pietino nella Marsica che nel Pescarese che rischiano di vedersi chiudere dove già non sono stati chiusi sia gli stetti sanitari che gli ospedali e questo può essere anche giusto ma bisogna andare al secondo tempo di questo progetto e c'è la riconversione cioè come dire poco male se ci fosse un trasporto adeguato qualcuno qualche medico sempre nel mio confronto con chi lavora nella sanità mi diceva che nel Massachusetts che è una regione molto più grande dell'Abruzzo c'è solo un pronto soccorso ma ci sono almeno 30 elicotteri che portano i malati in questo unico pronto soccorso quindi come dire possiamo anche tagliare ma bisogna riconvertire e certamente creare una rete adeguata affinché possa l'obiettivo essere raggiunto guardate il diritto alla salute deve essere tutelato in tutta la nazione e quindi anche su tutto il territorio regionale occorre costruire un sistema più equilibrato che funzioni che garantisca la sicurezza dei pazienti e che venga percepita l'attenzione ai loro bisogni io credo che il nostro progetto che ripeto l'abbiamo messo nero su bianco è sicuramente un progetto ambizioso ma credo che sia anche un progetto realizzabile con l'aiuto e l'impegno di tutti con l'impegno di chi si candida a governare i processi di ristrutturazione del nostro sistema sanitario che è malato e non guarito che ne dicano i 6x3 che abbiamo visto su Pescara e su tante città della nostra regione noi definiamo il sistema sanitario regionale un paziente grave e tutti quanti noi decisori politici e professionisti della sanità dobbiamo impegnarci per guarirlo perché il nostro problema non sono le competenze le abbiamo la politica le ha perché come dice tante volte il Giovanni D'Amico anche la politica studia ci sono casi in cui la politica studia le avete noi perché abbiamo ringraziando Dio e ringraziando voi stessi abbiamo professionisti seri preparati e presenti che hanno a cuore il loro nobile e dedicato lavoro a servizio della comunità ora è necessario fare un lavoro affinché le competenze della politica le competenze dei professionisti vengano messe insieme per poterle esercitare e farle esercitare io penso che questa di oggi non sia assolutamente un punto di conclusione del nostro lavoro ma sia un punto di partenza un punto di partenza che avrà il suo sdlancio vero e proprio dal 26 maggio io so che voi molti di voi hanno avuto molta pazienza in questi 5 anni ma sicuramente questa pazienza sarà ripagata perché dal 26 maggio noi ci forceremo insieme a voi le maniche e potremmo far potremmo rilanciare anche la sanità in abruzzo grazie grazie buonasera ripresentiamo l'operazione da oggi per cui Giovanni ha ringraziato già tutti quelli che hanno collaborato io vorrei spendere le tue parole per la struttura regionale del partito democratico e soprattutto per Daria Pinato che ha curato tutto il lavoro per rendere fruibile un scusate Daria prima di entrare nel merito di quella che è la proposta del partito democratico di alcuni particolari ci tengo a precisare una cosa qual è il nostro obiettivo può essere banale ma è importante che l'obiettivo sia chiaro è quello di dare a questa regione un modello di sanità che sia pari a quello delle altre regioni pari a quello che ci richiede l'Europa pari a quel sistema sanitario nazionale italiano che l'organizzazione mondiale della sanità ascrive tra i primi e più efficaci sistemi sanitario non un brutto modello del sistema sanitario un modello vero che risponda alle aspettative delle persone nazionale il modello popoliano della ragioneria dello Stato e del semplicemente vivere la sanità in maniera contabile è un modello dichiarato fallito anche a livello nazionale non siamo solo noi non stiamo dicendo non stiamo dicendo niente di incredibilmente diverso da quello che non si dice a livello delle facoltà che studiano economia sanitaria e di quello che si dice in a livello centrale è fallito perché? perché ha stressato semplicemente il discorso dei tagli e dove è stato interpretato male per fare i tagli non è che ci volevano le aguie non ci volevano gli esperti in managgio nel sanitario per fare i tagli si toglie la struttura si toglie un servizio non ci si mette niente e si risparmia allora non è quello il riequilibrio dei conti per la ricostruzione e per la proposta di un modello sanitario che sia efficace ed efficiente gli indicatori sono diversi gli indicatori non sono solo di contabilità ma sono in qualità ed equità della distribuzione dei servizi noi ripartiamo da dove gli eventi traumatici di questa regione hanno interrotto il nostro discorso ripartiamo dall'unico piano sanitario regionale fatto e ancora valido che speriamo di poter andare a cambiare il piano sanitario regionale del 2008 e 8 con un po' di imbarazzo torno a dirgli quali sono i nostri elementi importanti quali erano gli elementi importanti di quel piano quali sono stati gli elementi importanti che pur avendone la possibilità la il governo non ha ripreso dopo anzi contemporaneamente alla rimodulazione della rete sanitaria va il potenziamento della medicina territoriale il partito democratico in questo documento ripropone questo argomento come priorità la medicina territoriale che è quella che cura la cronicità organizza la continuità assistenziale mente pace tra le popolazioni abbassa il livello di ansia consente una sanità capitale che sia di buon livello e rispondente alle esigenze della quotidianità delle persone noi siamo una regione con un elevato indice di invecchiamento e un indice di invecchiaia superiori alla norma delle aree interne essere anziani non significa essere malati però essere anziani frequentemente significa essere soli e quindi rientrare in una situazione di necessità sociale essere anziani significa avere difficoltà anche per concretizzare dei passaggi che sono semplici in termini di cura serve e questo si sta facendo a livello nazionale serve una nuova politica sulle professioni sanitarie perché è perfettamente inutile che gli infermieri i tecnici e gli altri operatori della sanità abbiano dei percorsi di formazione ormai differenti che li portino a un livello che è il livello di laurea e poi in realtà non trovano un ruolo vero qualificante ed efficace nella proposta in salute che andiamo a fare pensiate all'efficacia e l'effetto che può avere la presenza di un buon ambulatorio infermieristico in un paese di montagna non necessariamente legato a una sede di distretto pensate a quello che può essere come effetto sulla popolazione la presenza di professionalità itineranti che si spostano dove è difficile spostarsi dove è difficile spostarsi l'Abruzzo lo diceva prima Marinella viaggia a differenti velocità una velocità che è quella del nord che è quella dove sono tutti i grandi ospedali rispetto a quella della costa del sud e delle aree interne del sud le aree interne del sud sono quelle della Massica quelle dell'Altovastese quelle dell'Aventino dove una frana tra Guardia Bruna e Torre Bruna blocca il passaggio del 118 e dove si dice agli operatori del 118 che non si porta il paziente ad Agnone perché altrimenti si va a fare la mobilità passiva questo detto da lontano da gente che non ha la minima conoscenza capillare del territorio il 118 la rete di emergenza urgenza non può prescindere dalla conoscenza del territorio non può prescindere se vogliamo avere una rete di emergenza urgenza moderna dalla infrastrutturazione di questa regione non può prescindere dall'asfalto e allora le strade diventano per noi veicolo di salute perché la gente le popolazioni delle aree interne devono essere velocemente raggiungibili abbiamo ormai metabolizzato l'idea che i piccoli ospedali non sono ospedali sicuri ma le case della salute ci devono stare i punti di primo intervento ci devono stare e le strade devono essere percorribili e i tempi di intervento sono fatti con le ore e non con i chilometri perché i chilometri delle aree interne molto spesso diventano ore e diventano ore per esempio parlando della assoluta inefficacia attuale della rete cuore noi sulla rete cuore vogliamo intervenire ci vogliamo intervenire non soltanto vogliamo fare le emodinamiche no la rete cuore va studiata per la messa in sicurezza dei pazienti perché tutti i pazienti sul territorio regionale hanno diritto alla golden hour all'ora d'oro non è possibile che a Palmoli o che in un paese della Marsica l'ora diventi tre ore e tre ore diventino proporzionalmente tessuto cardiaco che muore allora l'equità è questo l'equità è avere pari diritti in tutti i punti del territorio nazionale e per noi del territorio regionale il 118 il 118 è un diciamo è il cuore di una regione con orografia difficile con una rete ospedaliera che fino a che non è rimodulata e ristrutturata e riorganizzata è questa cioè i quattro ospedali principali app quindi l'ospedale dove si arriva tutti a nord di una linea passante per poco prima di lanciarlo il 118 è essenziale perché il 118 deve essere fatto di mezzi all'avanguardia deve essere dotato di e il personale adeguato l'utilizzo moderno della telemedicina lì dove c'è la possibilità ma soprattutto oltre che essere un elemento per garantire e stabilizzare l'emergenza è l'elemento del trasporto la rete Ago e Spock è fatta di ospedali di transito gli ospedali Spock sono quelli dove si passa allora il 118 deve essere realmente efficace mi viene da pensare guardando in un'altra regione non necessariamente alle regioni in Becce ma guardo alla Puglia la ASP di Foggia del 118 ha fatto un elemento di forza cioè ha fatto non solo un investimento ma un ricavo perché ha specializzato il 118 pediatrico per il trasferimento dei bambini e a quel 118 sulla pediatria molte volte facciamo riferimento anche a lui nessuno si salva da solo per cui questa regione la proposta del Partito Democratico riprende il concetto importante che per il Partito Democratico vale per tutto cioè questa regione si salva tutti insieme non lasciando indietro nessuno a livello nazionale il lavoro sulla sanità a livello nazionale la commissione affari sociali e sanità della Camera ma più che altro la commissione sanità del Senato che è una commissione pura solo su elementi di sanità lavora su diversi punti riguardo all'equilibrio del sistema sanitario intanto abbiamo avuto parole di speranza dal Ministro Lorenzin sperando che non restino solo parole perché il Ministro è veramente brava nella comunicazione però quando uno comincia a sentire troppo spesso ricorrere la parola stili di vita cioè mi stai a dire che la proposta in sanità è che io curo il mio benessere faccio sport faccio una dieta e non fumo e non uso sostanze però non mi dici poi quanti soldi ci metti sulle cose diciamo che un attimo di perplessità mi resta però ha lasciato aperte due come dire ha dato due parole di speranza una la volontà di rifinanziare l'articolo ex articolo 20 per l'edilizia sanitaria e l'altra la ricerca di modalità perché le regioni che sono in piano di rientro è come se fossero preda di usurai cioè difficilmente si esce da un piano di rientro senza sforzare la regione ci siano delle modalità più graduali per riportarsi all'equilibrio però stiamo ancora aspettando realmente quali sono le proposte contenere i posti e programmare non si può fare una proposta vera senza pensare alla technology assessment cioè la programmazione sugli investimenti in tecnologia non posso non pensare che noi siamo stati la prima regione nel 2006 ad avanzare delle proposte e avviare delle procedure per dotare questa regione di due PET-TAC e siamo rimasti l'unica regione che l'impianto realmente non ce l'ha ci sta un impianto mobile e l'utilizzo della PET-TAC non è adesso a distanza di quasi dieci anni qualcosa di un elemento raro la PET-TAC rientra tranquillamente nei controlli regolari nel tempo dei pazienti oncologici e a queste tecnologie si deve guardare non con l'idea mettimi la macchina che costa di più mi piace questa macchina io sono il formario all'avanguardia mi devi dare questo mi devi fare questo investimento no sarebbe utile e noi auspichiamo che succeda che si ritorni a una pianificazione che passi per l'epidemiologia quanta e quale malattia c'è quali cose servono per il percorso diagnostico e di cura niente di più ma neanche niente di meno il rapporto con i privati il controllo tra pubblico e privato si auspica da studi che sono stati fatti a livello nazionale e a livello europeo si sta valutando l'utilizzo a livello nazionale di una sorta di autority indipendente così com'è in Gran Bretagna così com'è già negli Stati Uniti d'America quello che riguarda la nostra regione il rapporto col privato è un rapporto di integrazione non è un rapporto di concorrenza pubblico privato il rapporto integrativo è già caratterizzato e già facilitato dalla presenza di una legge e anche quella ci pregiamo di averla fatta noi sull'accreditamento l'integrazione del privato possiamo rilevare con una certa chiarezza in abruzzo è un'integrazione da queste parti di qualità per cui anche in questo senso siamo fortunati l'apporto del privato se qualcuno di voi ha seguito la polemica che abbiamo sollevato l'ho sollevata io l'abbiamo sollevata dal Mastese sul progetto di finanza per la costruzione per un impiego di 269 milioni di euro per fare indipendentemente da qualsiasi ragionamento e pianificazione regionale un nuovo ospedale a Chietti ecco quel progetto di finanza partito come legittimamente può partire dall'iniziativa di un privato sul DEF quindi sull'ultimo documento di economia e finanza la commissione affari sociali della Camera ha messo una limitazione che forse non è stata registrata da queste parti ma che chiede e specifica e il governo ha accolto la prudenza il freno sull'impiego di fondi privati nella edilizia sanitaria con il vincolo della restituzione in servizi per 30-40 anni questa cosa viene non da un preconcetto ma da tutto quello che è di negativo è stato rilevato da due regioni che sono avanti sul progetto di finanza nella costruzione degli ospedali che sono Veneto e Lombardia la medicina del territorio la medicina del territorio è quella che abbiamo nel cuore è quella che deve essere potenziata perché altrimenti non si può ristrutturare alcuna rete ospedaliera è quella che vuole prima ancora che la responsabilizzazione ancora una volta dei medici di medicina generale la sburocratizzazione dei medici di medicina generale che tornino a essere responsabili della salute che siano dei veri e propri manager della salute individuale del paziente che lo seguano il loro percorso di cura ma che vengano anche gratificati se si vendono queste responsabilità responsabilità che sono nella scelta delle cure se devono essere perché devono essere i responsabili della propria tezza se devono andare contro tutti quelli che sono i rischi della responsabilità dello scegliere di non difendersi come professionisti cioè di non fare tanti esami di non fare delle cure in più di non fare tante visite specialistiche bene la responsabilità e la responsabilizzazione ha un costo per cui va rivista e questa è la revisione a livello nazionale la figura del medico di medicina generale nella sua funzione e nel suo ruolo il ruolo dei cittadini a promozione della salute non si può parlare di stili di vita se non si tirano dentro i cittadini a parlare della propria salute in Italia non si fa informazione sanitaria la cultura sanitaria si fa su internet vi invito a ricordare la devastante situazione di stamina vi invito a ricordare gli effetti che si rinnovano della cura di bella vi invito a pensare ai malati oncologici trattati con l'aloe vera si trova su internet la dissuazione della campagna di vaccinazione che sta mettendo in crisi i rapporti tra le famiglie i genitori e i pediatri i pediatri che sono una specialistica in via di estinzione e questa cosa è stata rilevata e segnalata giustamente nell'ambito dell'audizione sulla compatibilità e l'efficacia del sistema sanitario nazionale la visione del partito democratico è una visione che parte cioè che interessa il partito a livello nazionale a livello regionale a livello locale e il singolo specialista che appartiene a questa parte che vive la sua professione e che vede la salute come ricchezza la salute non è un costo la salute è una ricchezza perché la cura delle malattie pesa sul bilancio dello stato se uno la vuole vedere come un contabile la salute è una ricchezza perché un paese di salute è un paese che può fare che può produrre che può pensare è un paese di pace e allora con l'idea che la salute è un bene prezioso ritorno sul discorso degli scrini oncologici che faceva Marinella in particolare quello della mammella nel cancro di mammella sono felice di vedere la collega la dottoressa Muzzi che è responsabile del progetto screening per la silenzietta diversi radiologi il professor Masciò il dottor Sparvieri il progetto dello screening della mammella è in molte regioni e nella nostra una copione cioè una copia della lo screening come Costi e come platea dello screening della lo screening nazionale della legge veronesi allora se si deve fare qualche cosa di più forse vale la pena di ragionare con gli specialisti con quelli che seguono la mammella cioè questo cianchetti cioè con quelli che sono gli esperti sul campo per vedere se a livello di costi utilizzando i due strumenti in maniera armonica in maniera un po' più coerente si riesce oltre che a fare un buono screening della popolazione una comunicazione adeguata che porti le donne a rispondere allo screening e questa comunicazione il governo Chiodi non l'ha fatta l'ultima comunicazione sulla informazione sullo screening mammografico a tappeto è stata fatta con il progetto seno sano del governo precedente ma soprattutto porti a vedere se si può inserire nello screening la popolazione a rischio chiaramente è un lavorone però è un lavoro che con gli specialisti si può fare allora il passaggio che fa il partito democratico nella gestione delle politiche della salute è questo basta secretare gli eventi continuiamo ritorniamo a lavorare insieme rimettiamo insieme quel legame che con gli operatori è stato forte ed è stato di grandi contributi in quando l'agenzia sanitaria regionale era governata dal professor di Stanislava e non per un legame nostalgico al passato ma perché gli specialisti sono attori delle politiche della salute gli specialisti hanno gli operatori hanno il polso della situazione sono quelli che ti possono consentire di fare una proposta realmente rispondente alle necessità di salute e allora è concludo siamo noi quelli che possono dire faremo questo chi odi ci deve venire a dire ho fatto non quello che voglio fare non ci deve dire voglio fare la rete di emergenza urgenza ha avuto cinque anni e mezzo ha avuto più tempo di tutti per fare la rete di emergenza urgenza adesso il tempo speriamo di averlo noi un'intervento la relazione di roberto marzetti poi apriamo una discussione con interventi di ascolto successivamente daremo la parola a luciano d'alfonso e da giovanni legnini nel frattempo se vediamo l'alfonso vorrei partecipare io mi chiedo scusa rimango seduto perché ho bisogno di vedere le slide sul computer la vista non mi consente più una distanza partirei con una considerazione di carattere generale scusa se ti metti al centro possiamo rivederci non so se i gatti ci supportano non proviamo grazie tornando a noi permette di dire che lo stato di arretrapezza della regione abruzzo io ho riportato questi due riferimenti che sono lo statuto l'articolo 7 della regione abruzzo e l'articolo 32 della costituzione per far notare quanto profonda sia la differenza della visione della sanità dal legislatore dal costituente che l'ha scritto 30 anni prima e lo statuto della regione abruzzo che in realtà considera la salute come esigenza di garanzie la costituzione come vedete invece lo considerano come un diritto fondamentale dell'individuo è un interesse della collettività per cui forse diciamo un ragionamento più profondo va fatto nel rivedere anche in modo come lo pari il problema di fondo però è che insomma le cose non nascono così all'improvviso dopo il trattato di Maastricht come sapete il 27 febbraio 1992 i governi che si sono succeduti hanno incominciato a cercare di porre elementi di riferimento elementi normativi che costringessero il sistema di governo della sanità a tener conto che avevamo contratto delle obbligazioni nei confronti dell'Europa che imponevano la restrizione di costi e così è uscita la legge 502 successivamente la legge 517 che riguarda l'università per inciso molti sanno che questa legge in abruzzo non si applica non è stata mai applicata e poi arriviamo al decreto legislativo 229 del 99 che invece impone regole molto più stringenti rispetto al governo della sanità sono passati tanti anni però questo non ha prodotto nulla finalmente poi il governo per lo meno il Parlamento decide che la sanità diventa materia concorrente tra lo Stato e le regioni quindi c'è una chiamata in causa delle regioni nel governo del sistema che avrebbe dovuto imporre alle regioni un ripensamento sui livelli organizzativi e soprattutto diciamo le regioni avevano alcuni anni di tempo fino al 2004 per adeguare l'organizzazione faremo in modo che fossero compatibili non solo dal punto di vista economico ma anche come assetto sanitario complesso noi abbiamo cercato di fare uno studio abbiamo cercato di farlo in modo il più attendibile possibile e ci siamo letti questi documenti che sono documenti ufficiali alcuni della direzione regionale sanità altri sono dell'agenzia regionale sanitaria altri ancora del ministero e quindi le nostre fondi sono come diceva del resto che non è lo prima sono fondi oggettivi e da ultimo i verbali di monitoraggio che sono quelli che poi ci riguardano un po' più da vicino perché al di là della storia dell'accaduto i verbali di monitoraggio come vedremo rappresentano un futuro immediato che ricadrà sulla nuova giunta anche con impegni onerosi come del resto si diceva prima io partirei da prima nel valutare il primo elemento che viene agitato in questi giorni del cosiddetto pareggio di bilancio questo è il rapporto reale fra entrate e uscite per la quota sanitaria il pareggio di bilancio qui non c'è le uscite superano le entrate le due linee non si incontrano mai e anzi come vedete sotto la linea delle ascisse c'è la differenza che è tutta negativa per carità un pareggio c'è stato c'è stato nel 2011 dovuto a questi errori dovuto ad alcune sopravvenienze attive che non hanno nulla a che vedere con la sanità che sono state considerate come entrate utili per i bilancio quel picco così alto dell'Ars di Teramo io non ho avuto modo di approfondire ma stranamente sono 47 milioni di euro molto simile diciamo all'importo che le assicurazioni hanno risarciuto per il danno del perro vabbè ma sarà una circostanza non voglio come dire il problema vero è che tutto questo diciamo avviene il cosiddetto di pareggio di bilancio come è stato già detto più volte avviene contraendo in modo drammatico l'offerta sanitaria primo fra tutte ne parlava poco fa non è un amato la contrazione degli screening credo che questo grafico faccia capire bene cosa succede nel 2010 nel 2010 gli screening della mammella della cervice delina e del colon retto subiscono un drastico ridimensionamento mi domando chi si assumerà la responsabilità morale delle patologie che non sono state individuate in questi tre anni per pazienti che forse allora potrebbero essere curati agevolmente io spero la fortuna di via comunque la possibilità di farlo questo dato come vedremo di un 2010 che rappresenta lo spostamento di risorse dall'attività sanitaria al pareggio di bilancio è ricorrente nelle prossime cose che trovi la mobilità passiva qualcuno l'ha già accennato che succede con la mobilità passiva i cittadini abruzzesi non hanno trovato riferimenti nel nostro ordinamento sanitario e quindi si sono rivolte altrove ma che cosa succede per davvero in realtà è erroneo parlare di un salto negativo soltanto di mobilità passiva perché la mobilità passiva della Prusso è di 170 milioni coperti in parte dalla mobilità attiva per 102 milioni ma qualunque organizzazione seria sanitaria o meno che ha una uscita di questo tipo si vuole il problema di come modificare la propria organizzazione per intercettare quella domanda e qui nulla si è fatto il 40% di questa mobilità riguarda l'Az di Teramo e non perché è stato giusto Sant'Omero perché l'Az di Teramo ha un livello organizzativo del tutto inadeguato voi sapete che questa mobilità si rivolge quasi esclusivamente nelle vacche il 40% a sua volta di questa mobilità è costituita da richieste di interventi per il disturbo del sistema muscolo-scheletrico dell'apparato cardiocircolatorio dell'occhio del sistema nervoso e così via quindi siamo di fronte non a una richiesta di prestazione di elevatissima qualità che non può trovare risconde nella nostra organizzazione ma a cose ordinarie su cui un governo che ha un minimo di impegno e di serietà cerca di porre freddo e tramato su queste specialità noi abbiamo forfiorbi professionistico non è vero che non ce ne abbiamo e va bene la mobilità passiva però passa da 35.600 ricoveri del 2006 a 39.333 del 2012 come vedete il grafico è in crescita e quindi soltanto nel 2012 c'è una contrazione ma questo mi pare che nel 2013 non accade l'altro elemento di riferimento è la rete dell'emergenza di progetti più attivici che fine hanno fatto i soldi che sono scritti in quel frigo la regione Emilia Romagna la regione Emilia Romagna grazie bastava dirmi infatti l'oretta subito me l'ha detto io obbedisco sempre alle donne e cominciate a me ora la regione Emilia Romagna stanziò 5 milioni di euro subito dopo il terremoto per ricostituire una rete del 118 in Abruzzo con sede all'Aquilo ovviamente la centrale operativa e non è stato mai realizzato ora noi abbiamo un sistema di 118 che è tutto inadeguato perché lo spiegava bene l'onorevole amato su come funziona soprattutto nelle aree marginali su quella parcellizzazione per alz che non consente c'è l'esempio e la tante oltre che dei territori marginali di quello che i pescaresi forse mi capiscono meglio di quello che si sente male a San Cuceto deve essere portato a chiede e non a pescare che sta a un chilometro di distanza abbiamo un sistema di risoccorso che ci costa 300 mila euro al mese ogni volo in uscita costa 2 mila euro i nostri elicotteri non a te i nostri elicotteri i ricotteri della società che ci fornisce questo servizio non atterrano sull'autostrada non hanno il volo notturno e quindi non bisogna farsi male sull'autostrada né tantomeno di notte l'Emilia Romagna tutto questo era risolto perché i loro sistemi di intervento sono molto più efficaci con piccoli elicotteri che atterrano sulle strade normali i nostri hanno difficoltà a atterrare nelle zone di montagna dove ovviamente il territorio è impervio e così via eppure c'era un finanziamento rimasto inascoltato e non atterrato però di questo ne parlo con calore perché io avevo partecipato alle riunioni con il segretario della giunta regionale dell'Emilia Romagna che ci ha tra l'altro non dovevamo fare nulla perché loro ci portavano il loro sistema quindi dovevamo solo copiare nella scuola c'è un altro elemento importante dopo gli iscriviti sulle patologie ontologiche sono stati bloccati anche i progetti obiettivi sempre nel 2010 l'anno tragico della nostra realtà nel 2010 non riusciamo a avere il saldo del 30% sui progetti obiettivi del 2010 perché le azze non sono in grado di rendicornarli io non credo sia una difficoltà tecnica di solito non si rende conto di ciò che non si fa nel 2011 invece i soldi sono stati distratti e trasferiti a noi li ho elencati questi progetti per far capire che non parliamo di cose che sono marginali rappresentano proprio la diversa concezione della sanità proprio quello che noi vorremmo tenere sotto monitoraggio perché è lì che si esercita un ruolo reale che non è la sola spedalizzazione e allora sono le cure primarie la non autosufficienza l'assistenza ai pazienti in stato vegetativo le cure palliative la terapia del dolore la prevenzione delle malattie croniche l'assistenza penitenziaria la tutela della maternità le malattie rare la riabilitazione e la salute mentale questi progetti obiettivi sono fermi al 2020 e andiamo adesso a quelle cose più recenti che io mi dispiace per Luciano ma da presidente di Nicatano Addosso tutte le cose che Chiodi non ha fatto ma io credo che tranne la forza io per quella carterò tanto aiuto credo che tranne la forza e le capacità per affrontare i verbali il tavolo di monitoraggio il tavolo di monitoraggio molti di voi lo sanno è un luogo dove si incontra il ministero e regione ed escono sempre dicendo siamo d'accordo siamo d'accordo nel dire questo siamo d'accordo nel dire quello questi tavoli qui ho sintetizzato ciò che è accaduto in queste tre e quattro cose ha contestato alla regione tutte queste cose noi le esamineremo tutte ne vedremo solo tre o quattro più significative però fra queste il mancato raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza la mancata riorganizzazione della rete ospedaliera l'accreditamento definitivo di cui parlava prima la revisione dell'assistenza ospedaliera residenziale semi residenziali pazienti anziani disabili eccetera la rete dell'emergenza urgente il ministero se ne è accorto che non abbiamo fatto vedere la rivisitazione delle unità operative degli atti aziendali la completa attuazione della legge 22 sull'accreditamento definitivo consentitevi una digressione questa legge c'è era stata fatta dall'aggiunta precedente del turco la legge andava avanti molto rapidamente perché c'erano tempi interrogabili e siccome poneva il privato di fronte a scelte trastiche perché si trattava di adeguarsi a normative abbastanza rigide poi stranamente la legge va avanti adesso a pezzi loro la regione comunica di volta in volta il singolo accreditamento della singola struttura il ministero ha contestato questa procedura questa metodologia e vuole un provvedimento unico finale in cui si dica con chiarezza quali sono come è finito l'accreditamento del suo progresso e da ultimo la riorganizzazione dei punti di nascita vediamo idea il tavolo di monitoraggio del 22 novembre l'aveva sollevato ma questo problema era già vecchio perché il comitato permanente del ministero che segue l'andamento di idea aveva già consegnato a luglio un documento dal quale si evidenziavano le carenze questo comitato nell'esaminare idea prende riferimento 21 indicatori e 8 subindicatori complessivamente 29 parametri i parametri poi hanno un punteggio relativo la pagina 63 di quello plus che lo trovate insomma comunque non mi attardo su questo è quello che ha fatto dire però a Chiodi siccome stiamo a 140 l'obiettivo è 160 ce la facciamo a prego agli hospice ma il problema non è questo il problema non è del dato numerico lo vedremo meglio adesso il problema anche raggiungendo 160 che è la quota che comunque bisogna raggiungere poi bisogna realizzare e utilizzare il sistema ma comunque insomma andando avanti questa è la classificazione delle regioni rispetto agli obiettivi dell'area come vedete quelle del primo rigo le hanno raggiunti tutti nel senso che hanno raggiunto almeno il 95% degli obiettivi e quindi sono considerate regioni adempienti il secondo gruppo qui non c'è anche la Sicilia che abbiamo tralasciato la regione speciale ma oltre l'Asia a Bruzza e Maurizio ci sarebbe anche la Sicilia sono regioni che saranno considerate adempienti a condizione che abbiano rispettato un piano di risanamento e poi un piano operativo e poi lo vedremo qual è la situazione Calabria Puglia e Campania un consiglio d'amico non diciamo l'Arend perché questi sono proprio fuori dallo schema totale noi abbiamo fatto a maggio dell'anno scorso un confronto con le regioni Macri Toscane Uria Unbergi Martini allora abbiamo pensato di riportare qui la situazione di l'area in queste tre regioni in queste quattro regioni e come vedete la nostra è sempre l'ultima siamo adempienti per 11 lei rispetto ai 18 21 17 delle altre adempienti per 8 le altre in anno poco con scostamenti ne abbiamo 4 con scostamenti ma il miglioramento ne abbiamo altri 8 complessivamente su 29 18 sono fuori paratro e 11 stanno dentro quindi la gradatoria delle regioni siamo al tredicesimo posto e non è sempre un numero che porta bene qualche volta non porta fortuna ma in concreto quali sono le idee che noi rispondiamo quindi andarci direttamente a quello che dicevamo prima gli 11 sono quelli prevenzione 4 rischio e 4 ospedale gli ottimi aniembienti sono 6 per la prevenzione di cui 2 per i vaccini 1 per lo screening 2 per la prevenza animali e 1 sul controllo degli alimenti l'hospice come sapete è una struttura che ritroverano per anziani per malattie al mirale 1 che riguarda pazienti maggiori di 65 anni con fratture di ferro poi 3 sono hanno scostamenti 2 per la veterinaria 1 nei luoghi di lavoro e prevenza sanità animale 6 sono scostamenti ma il miglioramento 2 riguardano gli anziani 1 la farmaceutica 1 la specialistica 1 i parti sociali ci sai e l'altro il target di pronto soccorso una piccola notazione vorrei che fosse chiaro il target di pronto soccorso è una media la nostra media supera di gran lunga la media nazionale ma non è questo dato mediano uguale su tutto il territorio della regione chi ha la fortuna di vivere a pescare a 2-3 km dal pronto soccorso ha speranze di successo nelle problematiche che ha di gran lunga superiore al resto della popolazione che vive nei paesi sperduti voi sapete che in montagna un terzo della nostra popolazione vive su metà del territorio dissimilato in montagna in aree marginali e quindi questo dato mediano non spiega tutto ma insomma comunque sia siamo comunque fuori dalla media nazionale l'altra contestazione che i tavoli di monitoraggio fanno è sulla rete ospedaliere qui non ho voluto riportare tanto le strutture sappiamo che ce ne abbiamo tante ce ne abbiamo forse troppo qualcuno ne propone di nuovo e peraltro sul nuovo ospedale di Chieti io mi sono fatto un dato un dato soltanto giornalistico però il giornale scriveva l'ospedale costa 200 milioni la società che prodone il project financing chiede di gestire i servizi per 4 milioni di euro per 30 anni che fanno solo 120 no chiede di gestire tutti i servizi per 30 anni più 4 milioni di euro ah i roti sono 269 milioni cioè 69 milioni sono per arrotondamento anche all'Aquila avevano fatto una proposta di questo genere ma non l'abbiamo accorto va bene quindi cosa volevo fare evidenziare in questo slide che come vedete fino al 2008 non credo sia stato un caso fino al 2008 c'è una forte contrazione dei posti letto ne scendono circa mille insomma di posti letto nella struttura regionale poi c'è un andamento decrescente però questo andamento decrescente che ci porta oggi ad altre una riduzione di altri 500 posti insomma lo segnalo come dati in realtà come vedete la sanità privata che è la linea in basso quella verde subisce una diminuzione del tutto relativa rispetto a un obiettivo comunque quello che va segnalato da questo punto di vista è che mentre siamo ancora sopra per quanto riguarda i posti letto ospedaliere ordinari siamo di gran lunga sotto siamo a 5,4 rispetto a 10 per quanto riguarda i posti letto anziani ora siccome noi abbiamo una popolazione che è in vecchia per di più abbiamo una media nazionale una media superiore a quella nazionale un minimo di attenzione a far sì che questo dato cogliesse diciamo le esigenze della nostra collettiva forse qualcuno lo dovrà fare cito questo è il tasso di spedalizzazione che va diminuendo adesso fino al 2012 siamo arrivati a 180 ma anche qui come potete vedere fino al 2008 c'è un crollo consistente siamo partiti dal 278 posti letto ricoveri per gli abitanti nel 2005 per arrivare al 200 nel 2008 nel 2012 stavamo a 180 adesso nel 2013 è pieno riportato a 166 circa che è comunque superiore alla media nazionale e quando parliamo di media nazionale parliamo di un dato in cui ci sono i buoni e i cattivi cioè i buoni stanno molto al di sotto di 160 io credo che la regione Abruzzo abbia tutte le caratteristiche per stare tra i virtuosi tra quelli cioè che possono aspirare ad un'organizzazione di tipo di base se è già detto credo che lo citerò alla fine un'organizzazione che non guardi solo all'ospedale ho riportato questa tabella sulla degenza media per segnalare un dato che sembra contraddittorio la degenza media passa in Abruzzo passa in Abruzzo dal 2005 al 2012 da 6,9 a 7,3 giorni la degenza questo è un indicatore di efficienza dimostra come le strutture sanno operare bene quello che è strano è che invece nella sanità privata questo valore passa da 5,5 a 10,2 un'analisi superficiale ci dovrebbe portare a dire che i privati non sono efficienti in realtà per molti qui dentro che conoscono come funzionano le cose sanno che si entra con un DRG e se ne esce con un altro perché il DRG remunera tutta la prestazione con presi giorni di ricovero allora che vantaggio avrebbe il privato ad allungare i giorni di ricovero certo però se nel corso della permanenza uno entra con la rottura dell'ante ed esce che ha fatto pure riabilitazione al di fuori diciamo del DRG originale a base di questo genere i giorni di emergenza allungati servono a aumentare i costi allora abbiamo detto che la regione Abruzzo viene considerata virtuosa a condizione che realizzi un piano operativo impegnativo naturalmente per tutte le cose che qui sono state dette il piano operativo era stato adottato dalla regione Abruzzo piano operativo 2013-2015 era stato adottato con decreto commissariale numero 84 il 9 ottobre 2013 eravamo già con 10 mesi di ritardo ma il tavolo di monitoraggio del 22 novembre lo ha contestato è ritenuto non idoneo non adatto al proseguimento degli obiettivi di disalamento e agli obiettivi posti per idea e per le altre cose e quindi ha prescritto alla regione Abruzzo di adeguare la regione con il successivo decreto del 30 dicembre 2013 ha recepito queste prescrizioni oggi siamo a maggio 2014 vi faccio due domande prima chi dovrà realizzare questo piano se non la nuova giunta e secondo un piano di tre anni potrà essere realizzato in un anno perché io credo che la nuova giunta arrivando forse qualche giorno di tempo per capire dove sta ne avrà bisogno forse qualche giorno di riflessione per capire quali sono le linee strategiche sulle quali muoversi dovrà pure averlo e quindi rischiamo di adottare un piano in parte del 2014 e tutto il 2015 e non sarà facile realizzare obiettivi così consistenti in un arco di tempo così distretto a mio avviso questo dimostra una situazione chiara questa è la dimostrazione più evidente sancita da tavoli di monitoraggio del fallimento della giunta e dell'occhio perché se loro avessero adottato un piano all'inizio del 2013 sostanzialmente in linea e sul quale il tavolo di monitoraggio avesse fatto solo qualche banale eccezione forse avrebbero potuto portare oggi in campagna elettorale dei risultati delle cose fatte delle cose che dimostravano come l'andamento non era solo quello della riduzione dei costi a danno della collettività ma di un modello organizzativo che stava evolvendo rispetto a un quadro nuovo di sanità così male e quindi diciamo sarà compito della nuova giunta tant'è vero questo il conclamato fallimento che nonostante tutte le parole che vengono dette il commissariamento non viene revocato e non sarà revocato per adesso non lo sarà fino a quando non ci sarà un quadro chiaro che dimostra che la regione Abruzzo è per davvero il movimento rispetto a un divenire che deve realizzare una diversa organizzazione sanitaria il ministero non pretende che noi portiamo tutte le carte sul tavolo alla perfezione vuole monitorare un percorso un percorso che ha un inizio un divenire che essendo un divenire complesso perché la sanità non è un argomento semplice è come si diceva un divenire dentro cui non sono soltanto le stanze chiuse a determinare le scelte ma sono la moralità delle partecipazioni anche io richiamo il lavoro fatto da Francesco di Stanisola perché era un lavoro vero tra l'altro mi ha insegnato molte cose e tra queste non nascondo il fatto che i gruppi di lavoro che lui aveva individuato con gli specialisti era frutto di approfondimenti reali di gente che operava nelle strutture sanitarie che portava quindi un sapere molto utile a una diversa organizzazione e quindi non siamo in condizioni di revocare il commissario di grazie a tutti